Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Bentornati all'appuntamento col meteo di Tibus in corso di questa domenica, l'ultimo giorno di luglio. In Abruzzo si prospetta un miglioramento su buona parte della penisola dopo i temporali degli ultimi due giorni. L'anticiclone ha infatti spingere avvia le correnti più instabili garantendo un miglioramento generale del tempo. Solo su Campania, Lazio e Basilicata possibilità di qualche acquazzone pomeriggiano. In Abruzzo si prospetta un weekend compassivamente stabile dominato dal sole, specie al mattino, dopodiché qualche addensamento sparso in montagna durante il pomeriggio. Tuttavia non ci aspettiamo fenomeni annessi, al più qualche breve scroscio di pioggia in montagna al confine col Lazio. Temperature in ulteriore lieve calo, massime tra 29 e 31 gradi, minimetra 18 e 25 gradi. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione. A tutti voi una buona giornata. Letizia Costruzioni. Realizziamo i tuoi sogni.